Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Ricola Giannattasio. Sulla variante di Valico per traffico intenso, rallentamenti in direzione Roma tra il Bibio A1 Variante e Badia. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPI-Li per lavori un chilometro di coda tra San Mignato e Santa Croce in direzione Mare. Ralentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Fino al 28 febbraio per lavori chiusura della corsia di sorpasso dal chilometro 75 più 700 in direzione Mare nel ramo di Pisa. Suraccordo autostradale Siena-Firenze, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.